All'ex convento del Carmelo Sassari inaugura oggi Maria Lai in Public Space, più di un'esposizione, una lettura del suo percorso artistico attraverso le opere di arte pubblica, a partire dalla più conosciuta, Legarsi alla Montagna, il primo esempio di arte relazionale in Italia che l'artista sarda realizzò ad Ulassai nel 1981, legando con un nastro celeste tutti gli abitanti alla montagna con la quale si apre la mostra. Una sfida, anzi un'operazione impossibile, riuscire a portare in uno spazio espositivo le opere di arte pubblica, ma il curatore Davide Mariani attraverso un profondo lavoro di ricerca ha trovato la chiave di lettura per raccontare l'artista in un'ottica che parte dalle opere realizzate sul territorio, per dialogare con tutta la produzione di Maria Lai. La mostra ha un percorso esperienziale, nel senso che vuole ricostruire e anche trovare quelle suggestioni che comunque si ritrovano nei luoghi in cui Maria Lai ha operato e soprattutto ci sono le opere di riferimento concettuale che Maria Lai ha utilizzato per poi andare a creare gli interventi di arte pubblica. Tre piani di esposizione con 150 pezzi, tra loro anche opere originali e dei pezzi inediti, alcuni dei quali recuperati tra il Ciarpama e dei Fabri, che hanno lavorato con l'artista. È divisa in due sezioni, legare e collegare, cosmo o microcosmo. L'esposizione temporanea sostenuta dal comune di Sassari, il quale estimento di Alberto Paba, è realizzata con il contributo di Fondazione Stazione dell'Arte di Ulassai e della Fondazione di Sardegna in collaborazione con l'archivio Maria Lai. Si inserisce tra le mostre più importanti a livello nazionale. Questa mostra davvero sta a significare il legame che c'è con tutta l'isola, con i suoi paesi e con un artista che è davvero di rilievo mondiale. Maria Lai, art in public space, è un esempio di come l'arte di questa piccola donna dal respiro internazionale e dallo spessore di un gigante non si esaurisce in quello che è noto e celebrato in numerose mostre a lei dedicate, ma a un ritmo infinito, quello che l'artista stessa invitava a seguire accostandosi all'arte.